La Juventus fa pace con UEFA, ma Agnelli funziona ancora alla Superlega V di letture mentre la Juve si avvicina a Alexander Ceferin facendo un passo indietro dalla Superlega. L'ex presidente continua a lavorare sul progetto La Juventus fece un importante passo verso l'UEFA inviando una lettera a Real Madrid e Barcellona con il desiderio di ridiscutere la loro posizione all'interno Compagnia 22 e della Superlega.Il corpo presieduto da Alexander Ceferin per minacce nei confronti del bianconeri. Dall'altro UEFA ha apprezzato molto la nuova posizione vecchia signora. Dopo finale della Champions League ogni giorno sarà buona per chiusura delle indagini aperte dall'organo disciplinare UEFA contro Juventus. La domanda, secondo i rapporti di Tutto Sport oggi, potrebbe ora essere conclusa in due modi, dato che una pesante sanzione con il bianconeri escluso dalle competizioni per diverse stagioni sembra escluso. La prima ipotesi è quella di un anno senza coppe europee, con la Juve che sarebbe quindi esaurita dalla Lega della Conferenza, la seconda è quella di una multa per possibili violazioni sulle regole che regolano licenze e fair play finanziari. Nel frattempo, Andrea Agnelli non è scomparso dalla circolazione come sembrerebbe. Ingredendo il processo sportivo sulla questione salariale, l'ex presidente della Juventus olandese continua a lavorare da solo sul progetto Super Lega, in modo totalmente indipendente.